Una campionessa dal fisico bestiale. Come fa Federica Pellegrini a non sbagliare mai un colpo? Ecco i segreti del suo duro allenamento. Campionessa olimpionica e asso nello stile libero, Federica Pellegrini ha un corpo da urlo che la rende un'eccellenza dello sport made in Italy. Per ottenerlo, Federica si allena anche fuori dall'acqua. In palestra fa soprattutto molti esercizi per spalle, braccia e dorsali. Per eseguirli, non disdegna nemmeno l'aiuto dei pesi, con cui migliora il suo celebre tono muscolare, grazie al quale è una star del nuoto. La resistenza della campionessa è anche temprata da lunghe passeggiate, che ama fare all'aria aperta per unire l'allenamento alla vista di bellissimi paesaggi naturali. L'allenamento acquatico di Federica dura diverse ore al giorno, anche se, da come affronta i chilometri in piscina, questo lavoro sembra proprio non pesarle. Affronta con filosofia anche gli effetti collaterali del suo mestiere, come le irritazioni da sfregamento che provoca l'uso prolungato del costume. Ma si consola anche cambiando location e nuotando in mare da sogno, non dimenticandosi mai di fare stretching, né sulla spiaggia, tanto meno in palestra. Infine, per rilassarsi dopo tanta fatica e tonificare il corpo per il benessere di muscoli e articolazioni, Federica si concede delle sessioni di fisioterapia. Grazie. Grazie.